la registrazione e iniziamo ok siamo in live andiamo allora eravamo venuti qua per provare a vedere se avevamo la nera pietra ma non l'abbiamo quindi proseguiamo allora eravamo rimasti qua sii vola sii vola 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 sii dica ponte mosaico e dove cacchio sta mappa allora 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 ok fa piacere io ci devo andare però da una grotta climax va bene dovrò raggiungere il professor platan salve signorina percorso 18 va bene sii voglio usare taglia che interessante mi piace mi piace se mi piace mi piace Spirca! Direi che la differenza di livello è veramente abnorme. Spirca! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, staccaroccia! Che brutta cosa. Signore, buongiorno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah 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 Non male Farò meglio che mi vada a curare Nooo Innaggia a te Ah no, 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 no... Grazie a tutti. 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 Facciamoci tutto il percorso di cioppa prima là. Forse. Grazie a tutti. Quindi per passare il percorso di cioppa. Io devo entrare nella grotta climax. E andiamo alla grotta climax. 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 Alla grotta. Alla grotta. Ciao bello. Ciao bello. Ciao bello. Alla grotta. Alla grotta. la grotta. Alla grotta. devo incontro. Alla grotta. Alla grotta. Alla grotta. la grotta. Alla grotta. Alla grotta. Alla grotta. Alla grotta. Alla grotta. Alla grotta. fobi. Alla grotta. Alla grotta. Magari evitiamo di mancarlo, vero? Ok Perchè non abbia usato un attacco di tipo fuoco, spero ancora capirlo Ah In questa città Cerchiamo Sì, no No Eh guarda, adesso lo so Grazie Sì, no, 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 non ho visitato il museo In arena No, non di qua Ah l'hotel Ah Da fratellanza Ciao Idrovampata Mi piace Sono ricco Grazie Ciao Se non ho la MN cascata non passa Dove la trovo? Va bene, torniamo indietro Grazie Grazie Signora, lei è gentile Andiamoci a curare, andiamo alla Grotta Climax Grazie 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 Grazie